Ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento meteo. A metà settimana l'alta pressione continuerà a proteggere gran parte del nord mantenendo il tempo stabile e soleggiato, mentre al centro-sud avremo molta instabilità atmosferica con molti temporali. Tra l'altro il caldo tornerà a foso, come vedete le temperature massime previste per metà settimana saranno calde, in generale andranno dai 28 ai 34 gradi, con locali punte di 35-36 gradi. Per quel che riguarda il tempo per mercoledì, come vedete nel corso della mattinata la situazione sarà tranquilla, con tempo stabile un po' dappertutto, salvo qualche rovescio sulla parte meridionale della Calabria ma anche sulla Sicilia. Poi nel corso del pomeriggio avremo un aumento dell'instabilità con molti temporali sulle zone interne del centro-sud, fin lungo le coste tirreniche, sulla Calabria, sulle due isole maggiori, qualche temporale anche sull'arco alpino.